Allora, il quadro è questo molto sinteticamente per i nostri ascoltatori. Il mondo è in crisi come non mai e ci sono dei punti, dei focolai di guerra inquietanti, li abbiamo già espressi, Medio Oriente, la Siria, l'Ucraina, molti paesi africani e il dominatore o l'imperatore ha fretta, fretta, molta fretta di attaccare, tra virgolette, i competitors che sono la Russia e la Cina. Questo è il quadro che emerge da quello che tu stai dicendo e questo. Adesso andiamo alla conclusione del nostro dialogo e dobbiamo per forza trovare e cercare di trovare disperatamente delle soluzioni politiche, se ci sono, se ci sono, non lo so se ci sono, te le chiederò e parliamo del nostro paese. Il nostro paese è comunque tra le sette potenze economiche più forti del mondo, più avanzate del mondo. Il nostro paese ha un grande patrimonio, il più grande patrimonio artistico-culturale della terra. Il nostro paese ha tantissimi geni intellettuali della cultura, dell'arte, del cinema. È possibile che l'Italia non possa fare nulla per fermare, perlomeno non abbiamo noi forze militari, ma abbiamo una grande forza intellettuale, di pensatori, questa folle corsa verso l'autodistruzione. Quindi dobbiamo parlare per forza di politica. Che futuro ha la nostra politica? Cosa pensi di questo governo? Non lo immagino, però avrai un tuo pensiero. E se è possibile, se ci possa essere un'alternativa positiva, una opposizione a questo possibile, speriamo di no, futuro catastrofico che ci attende. Dunque, io sono un po' meno entusiasta di te e della nostra potenzialità. Nel senso che eravamo, abbiamo avuto momenti alti della storia del nostro paese, non solo prima di diventare unità d'Italia, ma anche dopo. Noi abbiamo avuto grandi influenze sulla cultura mondiale. E questo è vero. Noi abbiamo un'eredità straordinaria, che è la bellezza di questo paese, che ha un valore di per sé e ha un valore anche etico, perché poi chi vive nella bellezza non può che risentirne. Fortunatamente. E tuttavia io credo che noi siamo forse nel periodo più basso della nostra storia, di tutti i tempi. Non so trovare in nessuno dei campi, dalla fisica, alla letteratura, al cinema, alla musica. Non so trovare niente di peggio di quello che succede adesso. Siamo catastroficamente in caduta verticale, perfino della consapevolezza culturale e politica di noi stessi. Siamo meno intelligenti, meno colti di prima. E la classe politica che esprimiamo, perché l'abbiamo espressa, è quella che è il voto del 5 marzo dell'anno scorso. E' stato un voto che io definisco come un grido di disperazione. E infatti è stato questo, un'espressione di desideri, un grido di disperazione, ma anche un'espressione di desideri contrapposti tra di loro. Il risultato è il voto. È questa cosa qui che non ha però nulla di positivo. Non c'è una risposta. C'è una serie di grida. Io ho scritto un libro che ho intitolato Putinfobia. Il primo capitolo di questo libro l'ho titolato così, Come il guaito dei cani. Questo si riferiva al mondo, ma vale anche per l'Italia, perfettamente. Noi 5 marzo dell'anno scorso abbiamo fatto un grande guaito collettivo. C'è una soluzione? No. Non c'è una soluzione, nel senso che non c'è una linea. Non c'è una visione univoca della crisi. Né della crisi mondiale, della quale non si può prescindere, anche discutendo la crisi italiana, né della crisi italiana. E quindi non essendoci una guida, non essendoci un piano, non essendoci un progetto, ed essendoci molta illusione, e molti desideri, ma i desideri non sono sempre legittimi. Ci sono desideri legittimi, ci sono desideri illegittimi perché sono stupidi, perché sono contro il nostro interesse. E quindi tutto questo groviglio ha prodotto la situazione attuale. Noi non siamo in grado di influire sulla situazione interna, perché non abbiamo più una classe dirigente. E l'assenza di partiti dice esattamente questo. Quindi è del tutto logico che emergano pulsioni reazionarie, che la confusione si trasformi in violenza. Non c'è il minivo dubbio che tutta l'Italia, che l'Italia deve essere profondamente cambiata. Ma la somma dei desideri di tutti i cambiamenti non fanno cambiamento. E non potranno farlo. Ci vuole un piano, ci vuole un progetto, ci vuole una strategia. E per fare una strategia ci vuole una forza politica capace di esprimere questa strategia. Non c'è? Non c'è. Questo è il vero problema. Non c'è più una visione unitaria della crisi del nostro paese. Perché sarebbe già il primo punto di partenza per uscire dalla crisi. Avere un'idea di che cosa sta succedendo. Intendo dire, facciamo l'esempio, dopo la seconda guerra mondiale ci fu la Repubblica, la Costituente. Si riunirono i migliori uomini dell'Italia e decisero di fare un patto. Un patto per tutta l'Italia. Da componenti del tutto diverse le une dalle altre, che si erano anche combattute in qualche misura. Ma riuscì l'Italia in quel momento a ricavare un progetto. La nostra Costituzione è tuttora un progetto. Che rimane tra le migliori al mondo, se non la migliore al mondo. Tra l'altro. Che vuol dire che non necessariamente una crisi produce soltanto un disastro. Una crisi può produrre un grande colpo di reni, per esempio. In quel caso l'Italia fece un grande colpo di reni. Sei in grado di trovare gli uomini che sono capaci di fare questo colpo di reni? Non ci sono. Non ci sono più gli uomini. Perché c'è stato un abbassamento del tenore intellettuale di tutta la classe politica. E questo ha a che fare con il cambio proprio delle condizioni tecnologiche della politica. Noi siamo entrati in una fase in cui i partiti non ci sono più, perché la società è stata tagliuzzata a pezzettini. Non ci sono più le classi. Non ci sono più i luoghi dove gruppi di uomini si possono riconoscere sul serio intorno a delle idee di cambiamento. Quando nel ventesimo secolo c'è stata una grande fase di democrazia era la democrazia dei partiti di massa. I partiti di massa sono spariti. Perché sono spariti? Sono spariti perché la tecnologia ha superato la politica. la televisione ha cambiato il quadro. La televisione. Naturalmente i rapporti di forza. C'è stato un grande colpo di Stato in Europa che ha cambiato le leggi europee e le ha trasformate in una struttura burocratica non più democratica. Questo è avvenuto perché il potere è stato delegato dalle classi politiche ai banchieri. I banchieri sono diventati padroni. L'economia e la finanza sono diventati. No, soprattutto la finanza è diventata la padrona della nostra vita. Ecco, se metti insieme tutti questi cambiamenti che sono avvenuti sotto i nostri occhi ma non li abbiamo interpretati, non sono stati capiti, accade adesso che i partiti non ci sono più e quindi gli uomini sono soli. Il Movimento 5 Stelle non potrebbe essere un partito di massa? Lo è stato per un breve periodo. Il Movimento 5 Stelle finirà prestissimo come movimento di massa che si è espresso nel suo vertice massimo il 4-5 marzo dell'anno scorso. E' la fine del Movimento 5 Stelle. Non ci sarà altro movimento. Questo perché si è alleato con la Lega che è un partito che sappiamo bene la sua storia. No, 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 non solo per quello. L'alleanza con la Lega è stato un fattore inevitabile dovuto al fatto che anche il Movimento 5 Stelle aveva sbagliato il giudizio sulla società italiana. Non dimentichiamo che si è andati alle elezioni dicendo un governo dei 5 Stelle con Di Maio presidente. Loro pensavano, pensa un po', poveretti, di fare il governo loro che sarebbe stata una catastrofe, ancora peggio di adesso perché non avevano e non hanno né le competenze, né la conoscenza della macchina del potere, né una teoria del potere. Loro pensavano di rovesciare l'Italia come un calzino moralizzando il paese ma questa è un'illusione, era un'illusione assoluta. Non cambia un paese moralizzando un paese. Un paese è immorale perché le strutture lo rendono immorale e tu devi sapere qual è l'origine della immoralità. E infatti loro hanno brancolato nel buio, referendum per uscire dall'Europa, adesso sono diventati totalmente europei, che ne so, sovranità nazionale e, come dire, orgoglio nazionale in qualche misura. Perfino questo è stato detto, poi dopo due minuti Di Maio ha dato negli Stati Uniti e ha dichiarato di essere un suddito fedele, non solo fedele, fedelissimo, il più fedele possibile degli Stati Uniti. Come si può parlare, la stessa cosa vale per Salvini, intendiamoci, come si può parlare di sovranità nazionale senza sollevare il problema della Nato, dell'alleanza militare alla quale noi siamo sudditi. Cioè tutte queste cose, messe tutte insieme, più reddito di cittadinanza, che non si è capito bene che cos'è e che cosa sarà, Dio mio, Dio mio, perché il problema è vero. Nei principi può essere anche giusto. Ma certo, ma c'è molte cose che sono state dette, erano pure giuste, erano pure giuste, ma mancava totalmente una idea della società del futuro, per esempio. E quindi tutti questi discorsi sulla democrazia diretta erano il frutto di una visione plebea, elementare, sciocca. Quindi la crisi interna porterà alla caduta del governo, secondo te? No, magari riescono ancora a reggere un po' di tempo, perché conviene agli uni e agli altri, ma il risultato elettorale del 5 e del 22, questo qui, questo qui che vedremo adesso, Delle europee. Il 26 delle europee, ci dirà che il Movimento 5 Stelle si riduce a un terzo della sua forza, che sarà un'altra cosa. E la situazione italiana sarà totalmente paradossale. Di paradossi abbiamo parlato molto in questa conversazione, ma questo sarà uno dei paradossi più grandi che si possa immaginare, perché avremo un Parlamento, il 27 di maggio, avremo un Parlamento che ha oltre 300 deputati e senatori del Movimento 5 Stelle e che improvvisamente si scoprirà che non sono più rappresentativi della... Perché scenderà molto la percentuale. Assolutamente, avremo un Parlamento che non corrisponde assolutamente alle forze in campo. Salvini sarà due volte più grande, anzi un po' di più di due volte, due volte e mezzo più grande, e loro saranno due volte e mezzo minori. Quindi come può reggere questo, senza per esempio un rimpasto di governo radicale? Perché giustamente Salvini potrebbe dire, facciamo i conti, tot vostri ministri, nel Consiglio dei Ministri siete in maggioranza, ma non sarete più in maggioranza nella realtà del Paese, quindi si apre una situazione assolutamente imprevedibile. Io ritengo che non ci sarà subito la crisi di governo, ma che tutto lascia prevedere che ci sarà presto la crisi di governo, che quindi l'idea di una prosecuzione di questa legislatura per cinque anni non ha nessun realismo, anche perché ci sono molti altri protagonisti che non sono Salvini e Di Maio, ci sono i cosiddetti mercati con la M maiuscola che decideranno loro, c'è un altro M che si chiama Mattarella, che vuole fare probabilmente altra cosa, cioè un governo del Presidente, cioè toglie di mezzo, ci sono i grandi giganti del mondo che decidono. Le grandi banche, la grande finanza. La grande banche, quindi questa sarà una fase, diciamo così, molto turbolenta, molto turbolenta. Siccome io penso che, sempre tornando allo scherzo di prima, il guaito dei cani, può essere il guaito di dolore di un cane bastonato, ma a un certo punto il cane si può anche arrabbiare. E noi credo che andremo... Cioè la gente. Sì, la gente. Ormai ci sono dei livelli che si avvicinano fortemente allo stato di tensione non più governabile nella tranquillità e nella pace. Quindi io credo che bisogna che noi facciamo un grande sforzo. Siccome tu mi chiedi che cosa io penso che si possa fare, dico che bisogna fare un grande sforzo adesso per riunire tutte le forze intellettuali di valore, intellettuali oneste, naturalmente, perché la questione dell'onestà è fondamentale, oneste, competenti e capaci di superare le divisioni. O noi riusciremo a mettere in piedi, in tempi rapidi, una classe dirigente è capace di guardare la complessità della crisi generale, capace di guardare la necessità dell'unificazione delle forze sane del paese e capace di capire che la sovranità deve essere uno dei punti chiave della nascita del paese. Se noi non riguadagniamo la nostra sovranità, noi non saremo protagonisti attivi di nulla, noi saremo proprio dei fuscelli, saremo dei fuscelli dentro una crisi che è molto più vasta di noi e che non sarà governabile, se non dai grandi giganti del mondo di cui abbiamo parlato prima. Allora, qui ritorno velocemente a un punto che l'avevo lasciato in sospeso. Non credo che la rinascita e la via d'uscita della crisi mondiale avverrà qui. Qui, quando dico qui, dico in Europa. L'Europa è tutta più o meno nella stessa situazione di cui sto parlando. L'Italia è un pezzo di questa situazione, ma la situazione è tutta europea. Quindi, questa Europa non è il punto centrale del mondo. I veri protagonisti di una possibile uscita pacifica sono proprio la Cina e la Russia. Se riusciranno a impedire lo scontro, noi avremo più prospettive per il nostro futuro collettivo di uomini, di uomini e di animali e di piante, intendo dire. Certo. Perché qui siamo tutti... Della vita. Della vita, è scusata. Sì, la vita, la prosecuzione della vita, così come più o meno l'abbiamo conosciuta. Che sarà comunque difficile. Molto difficile perché di questo abbiamo parlato poco, ma magari ne parleremo in un'altra occasione. C'è un protagonista nuovo che ha assunto e sta assumendo una sua, come dire, fisionomia. È la tecnologia. La tecnologia sta prendendo il comando su di noi. Questa roba qua ha cambiato il noto tempo. E il noto sapere non lo ha aumentato, lo ha ridotto. E la nostra capacità di controllo sul pianeta lo ha ridotto. La globalizzazione si è realizzata, ma a prezzo di un abbassamento della potenza intellettuale dell'uomo. E quindi noi siamo in un guaio, perché questa è roba nuova. Rispetto a tutte le crisi precedenti, questo è un protagonista che prima non c'era mai stato. Che ha una potenza sterminata, perché ragiona molto più velocemente di noi. E ragiona già molto più velocemente di noi. Il nostro cervello vive alla velocità di 6,5 km al secondo. Questa roba viaggia alla velocità di 300.000 km orari. La differenza è... 300.000 km al secondo. Scusate, farlo 300.000 km al secondo. Ho capito che era un lapsus. Al secondo. Un lapsus, sì. Infatti bisogna abituarsi a 300.000 km al secondo. Siamo adesso impressionanti. Allora... Però, governato questo da quel milione che governa il mondo o viceversa? Eh, beh, questa è una grande questione. È governato in parte da loro, in parte, solo in parte. Loro stessi non sanno dove si sta andando. Loro stessi hanno messo in botto, come dire, hanno aperto il genio. È uscito il genio dalla lampada e loro stessi si chiedono che fine faranno. Li rimane... Ma qui parlo proprio di quelli che stanno in cima alla piramide. Li rimane l'illusione di poter dominare. Ma è un'illusione. Non lo sanno. C'è una bellissima frase con la quale voglio concludere. Il grande fisico Hawkins, fisico matematico, che è morto recentemente, ha fatto una profezia. Anche lui ha detto, entro questo secolo, e secondo me questa parte della profezia è sbagliata, perché avverrà prima della fine di questo secolo, entro questo secolo noi avremo a che fare con l'intelligenza artificiale, la quale non sarà uguale all'intelligenza umana, sarà un'altra intelligenza, ma sarà un'intelligenza e noi dobbiamo smettere di pensare che l'unica intelligenza possibile saremo noi, primo. Secondo, quest'altra intelligenza sarà tale che noi dovremmo già ora chiederci, ora chiederci, se sarà amica, perché non siamo certi di questo. Quindi questo è un cambio di epoca, io lo vedo come tale. Quindi se vogliamo fare tutta la discussione, supponiamo che riusciamo a salvarci dallo sconto nucleare che è suicida e senza senso, noi abbiamo costruito una società che è uscita dai limiti dell'umano. Dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo tornare indietro, e questa è l'ultima cosa che voglio dire. Per esempio, noi continuiamo a usare parole che hanno perduto il loro significato, moltissime parole di quelle che abbiamo usato in tutta la nostra vita, la tua, la mia. Le usiamo e capiamo che tu le usi in un senso, in un altro, in un terzo, in un terzo, ciascuno gli dà il suo significato, ma non è più vero, non è più così. Per esempio la parola progresso. Se il mio ragionamento funziona, la parola progresso può essere anche terribilmente pericolosa. Potrebbe voler dire morte la parola progresso. Certo. E se noi continuiamo a pensare che il progresso va bene così com'è, commettiamo un gran errore. Perché in questo progresso c'è qualche cosa di non umano, di non friendly, come direbbero gli inglesi, di non amichevole. C'è qualche cosa di tremendo che noi non potremo controllare. E questo è un elemento chiave. La parola democrazia che noi continuiamo a usare, in queste condizioni non sarà più possibile. Proprio per finire. E invece ci salverebbe o ci salverà la parola amore? Ma in qualche misura io uso di più la parola solidarietà, perché forse amore, non lo so, io penso all'organismo umano. Noi siamo circa 20 miliardi di cellule, se non vada a raro, tu sei una comunità di 20 miliardi, io sono una comunità di 20 miliardi. Non so se le cellule del mio dito amano le cellule del mio piede o del mio cervello, può darci, ma io userei un altro termine. Vivono insieme perché sono solidari. Solidarietà. La solidarietà, cioè noi viviamo perché questa comunità molto numerosa è solidare con se stessa. Certo. Nel momento in cui finisce questa solidarietà noi moriamo. Solidarietà per istinto di sopravvivenza e per evoluzione. Sì, la parola solidarietà secondo me corrisponde di più al quadro che realisticamente possiamo prevedere. Se riusciamo a ricostruire una solidarietà che poi è la solidarietà dell'uomo con la natura, che poi è la solidarietà di tutto il cosmo in cui noi viviamo, o questo cosmo riesce a sopravvivere mantenendo i suoi ritmi, la ciclicità. Noi dobbiamo ritornare a questo, il fatto drammatico che noi abbiamo introdotto alcune grandezze che sono infinite. Nella natura non c'è nulla di infinito. tutto ciò che sembra infinito è solo ciclico, ritorna, si modifica, si evolve, ma nello stesso tempo ritorna. Noi abbiamo introdotto delle cose che sono come degli asintoti matematici che vanno in un punto dove non c'è più natura. Il denaro che noi abbiamo inventato è infinito, ma non ci sta con la natura. Perché se tu applichi un denaro infinito sulla natura, distruggi la natura, esattamente quello che stiamo facendo. Quindi è questa l'innaturalità di ciò che accade, la disumanità di ciò che accade. Nella logica delle cose, ritornare alla umanità significa ritornare alla condivisione, alla solidarietà, alla vita in comune. Questa è l'HL, se vuoi, è un imperativo categorico per la sopravvivenza. Questo per me è. Grazie Giulietto Chiesa, con tutto il cuore.